Oggi è una giornata importante perché abbiamo aperto l'estate del turismo, della cultura, dello sport. Ci sarà almeno un evento ogni sera, sarà un evento in questa piazza, proprio adesso in questa piazza stanno montando il palco e abbiamo raddoppiato il numero dei posti a disposizione. Ci sarà poi un'altra piazza al centro di Andorra che è la piazza Santa Rita e ci saranno anche alcuni eventi nel porto di Andorra. 6 di luglio con il pre-festival Noir, che si svolgerà come pre-festival il 6 al 7 in piazzetta Santa Rita e successivamente nei tre giorni qui nel parco dove siamo adesso, nei giardini di Palazzo Tagliaferro. Il Noir era nato nel 2014, aveva avuto una felice intuizione il nostro sindaco, il dottor Mauro De Michelis, e dall'anno successivo, dal 2015, si è iniziato questa bellissima esperienza che negli anni è andata sempre crescendo. Collegato al Noir c'è la pubblicazione di un libro di racconti che affrontano ogni anno un tema diverso rispetto all'argomento. Quest'anno il tema è la vendetta. Una giuria legge tutti i vari racconti, che nello specifico quest'anno erano 75, e tra questi, con una valutazione piuttosto ponderata, con degli indicatori, individua poi i dieci racconti che vengono pubblicati. Negli anni ci sono stati tanti ospiti molto famosi, quindi veramente è un evento che sta prendendo sempre più piede di grossa qualità. Come potete vedere, alle mie spalle abbiamo gli operai del Comune, che stanno finendo di allestire la piazza dei Giardini Italiaferro. Quest'anno, rispettando sempre le normative Covid, avremo gli ingressi contingentati, ma riusciamo ad avere più ospiti, perché occupiamo anche la parte di Prato. Le serate saranno tutte, ogni sera ci sarà uno spettacolo, avremo il Festival Jazz, che è alla nona edizione, il Festival Blues, alla sesta edizione, e l'estate musicale andorese, che come ogni anno ci propone delle eccellenze nel campo della classica. Ogni sera avremo diversi generi musicali, abbiamo anche degli appuntamenti di teatro e diciamo che Andorra anche quest'anno riuscirà a dare ai turisti un'offerta tutte le sere e avere qua ai Giardini e anche in qualche altra location un intrattenimento per i nostri ospiti. Nelle serate andoresi ci sarà sicuramente anche una serata dedicata alle eccellenze sportive del territorio e nostra intenzione infatti è dedicare una serata o parte di una serata alla premiazione di quegli atleti che si sono distinti, nonostante l'anno di pandemia, in varie attività sportive. E questa è nostra intenzione per aver portato il nome di Andorra ai massimi livelli nazionali.